Ciao a tutti, torniamo alla filosofia. In questo video proviamo a vedere Platone un po' più da vicino partendo da una sua opera molto importante, La Repubblica. Per il nostro filosofo la filosofia è l'unica strada in grado di poter condurre l'uomo e la comunità verso la giustizia, verso la felicità. Per Platone allora vogliamo creare una società giusta, vogliamo liberare il genere umano dal male, dalle ingiustizie? Abbiamo una possibilità, portare al governo i veri filosofi, quindi soltanto se i veri filosofi reggeranno gli stati, soltanto in questo caso avremo degli stati giusti e di conseguenza degli stati dove la giustizia è al centro di tutto. Per il nostro filosofo la giustizia è il criterio base per la nascita e per la formazione di uno stato. Senza la giustizia non può neppure esistere, non può nascere uno stato. Allora come sarà lo stato ideale descritto da Platone nella Repubblica. Questo stato deve essere diviso in tre classi, i governanti, i guerrieri e i lavoratori, lavoratori artigiani, commercianti, contadini. La virtù dei governanti è la saggezza, la virtù dei guerrieri è il coraggio, la virtù dei lavoratori è la temperanza. La temperanza deve essere presente anche nei guerrieri e nei governanti. La giustizia sarà allora l'unione di queste tre virtù, saggezza, coraggio e temperanza. E la giustizia all'interno dello stato si realizzerà quando ognuno farà il proprio compito, quando ognuno farà il proprio dovere e farà ciò che è di sua competenza. Da questo punto di vista Platone era molto rigido, ognuno doveva stare nel suo, fare appunto ciò che era di sua competenza, evitando di sconfinare e di mettere bocca in ambiti che appunto non erano di competenza. Le tre virtù, le tre classi sociali, anche l'anima, secondo il nostro filosofo, ha tre parti. La parte razionale ha la sede nel cervello e il cervello, quindi fa da questa parte dell'anima, fa da guida per appunto dominare i vari istinti. Poi l'anima, la parte concubiscibile ha la sede nel ventre che è il principio di tutti gli istinti corporei. Poi la parte irascibile ha la sede nel petto e questa parte dell'anima deve lottare, per tutto ciò che la ragione reputa utile, giusto. Ricapitolando allora, guerrieri, governanti, virtù la saggezza, anima razionale, guerrieri, virtù il coraggio, anima irascibile, lavoratori o produttori, virtù la temperanza, anima concubiscibile. La giustizia allora si realizzerà quando ci sarà l'armonia e l'equilibrio tra le tre classi, tra le tre virtù e tra le tre parti dell'anima, le tre funzioni dell'anima. Però sorge spontanea qualche domanda. Perché, secondo Platone, questo stato deve essere diviso in tre classi? E soprattutto, come possiamo stabilire se una persona debba appartenere a questa o a quella classe? Chi deve far parte della classe dei lavoratori? Chi deve essere il contadino? Chi deve essere l'artigiano? Chi deve essere il guerriero? A queste domande, Platone dà delle risposte precise. Per lui, all'interno di uno stato, è fondamentale la divisione per classi, perché ogni stato, uno stato, ha dei bisogni, ha bisogni diversi e tutti questi, diciamo, bisogni, questi compiti devono essere esercitati da individui diversi. Per Platone, questo è stato ideale, c'è bisogno del contadino, c'è bisogno dell'artigiano, c'è bisogno del guerriero, c'è bisogno del governante. Lui però su cosa insisteva? Ognuno deve fare il suo compito, soprattutto ognuno deve seguire le proprie inclinazioni, deve fare quello verso cui è portato. Io so fare il contadino, devo fare il contadino, non devo andare a fare l'artigiano perché non lo so fare, il guerriero deve fare il guerriero perché lui è bravo nell'arte della guerra, quindi non deve mettere bocca, non deve intervenire in ambiti che non sono i suoi. Ognuno deve fare il suo, un po' visto nella società di oggi, il pizzaiolo deve fare il pizzaiolo, il medico deve fare il medico, l'economista deve fare l'economista. Magari se pensiamo agli ultimi periodi, soprattutto penso alla pandemia, dove molti si sono improvvisati medici, virologi, davano consigli sui vaccini, questo si può fare, questo non si può fare, Platone direbbe statevi zitti, fate quello che sapete fare, non fate i medici perché non è campo vostro, fate fare a ognuno il proprio mestiere, il medico fa il medico, l'idraulico fa l'idraulico, l'avvocato fa l'avvocato, ecco Platone direbbe magari una cosa del genere. Però come stabiliamo se un individuo debba far parte di questa o di quella classe. Per Platone bisogna vedere le inclinazioni di ogni singolo individuo e lo stato platonico non è come una casta chiusa della società indiana per cui chi nasce in una casta rimarrà vita in quella casta. No, per Platone non era così. Lui ammetteva una certa mobilità sociale, per cui il figlio di un lavoratore, se aveva le inclinazioni per poter fare il guerriero, doveva fare il guerriero. Allo stesso modo il figlio di un governante, se non era tagliato per fare il governante, magari dimostrava di essere un bravo artigiano, aveva delle inclinazioni per fare l'artigiano o per fare il contadino, doveva scendere, doveva andare a fare quello che sapeva fare. Quindi, riassumendo per Platone, il figlio del guerriero, da grande non doveva essere un guerriero d'ufficio, perché lo era il padre, il figlio dell'artigiano, quindi del lavoratore, da grande non doveva essere un artigiano d'ufficio, d'obbligo, perché lo era il padre. No, Platone ammetteva una certa mobilità sociale. Anche questo magari oggi viene da pensare, quando si sente un ragazzo deve fare medicina perché suo padre è medico e perché il nonno ha fatto il medico. Chi lo dice? Magari quel ragazzo non gliene frega nulla di fare il medico, vorrebbe fare giurisprudenza, vorrebbe fare il gelataio, vorrebbe fare il contadino. E quindi ognuno bisognava seguire le inclinazioni del singolo individuo. Questo a parole. quindi questa forma di mobilità sociale. Nella pratica le cose stavano diversamente. Lo stesso Platone scrive, ordinariamente voi generate figli simili a voi stessi, quindi i figli spesso e volentieri sono simili ai padri. Quindi in questo stato si era ammessa la mobilità sociale, ma nella pratica era difficile, se non impossibile, perché lo stesso Platone scriveva che spesso i figli assomigliano ai genitori, quindi il figlio di un contadino, spesso assomigliando al padre sarà nel 99% dei casi un contadino. Allora poi come era organizzata la vita in questo stato? Per Platone affinché si possa realizzare la giustizia, affinché quindi lo stato funzioni bene, lui proponeva per le classi superiori l'abolizione della proprietà privata e i beni dovevano essere messi in comune. I custodi dovevano vivere in case semplici e mangiare cose semplici. L'oro e l'argento dovevano essere banditi. Perché doveva essere eliminata la proprietà privata? Perché eliminando la proprietà privata si eliminano gli interessi, interessi privati e quindi queste persone potevano dedicarsi anima e cuore al bene pubblico, al bene collettivo. Lui scrive che il nostro scopo nel fondare lo stato non è di rendere felice un unico tipo di cittadini. Noi vogliamo la felicità di tutti e questa felicità quando si realizza? Quando ognuno fa il suo lavoro, fa il suo dovere. Anche il lavoro meno nobile in questa società contribuisce alla giustizia, al bene comune e quindi alla felicità. Era una società basata su una forma di comunismo. Perché? Perché la classe al potere, secondo il nostro Platone, non doveva avere la famiglia. Anzi, per la classe al potere, le donne dovevano essere in comune. Quindi un uomo non poteva avere una propria donna. Un uomo non poteva avere una moglie e la moglie un marito. No, le donne erano in comune. Però lui non era a favore del sesso libero o della promiscuità sessuale. Secondo Platone, le unioni dovevano essere guidate dallo stato, dovevano essere temporanee, con l'obiettivo di fare nascere dei figli sani. Solo figli sani dovevano nascere dei figli sani. Quindi criteri eugenetici. E poi questi bambini erano i figli di tutti. Quindi questa grande società, Russell l'ha definito un monastero senza celibato. Questa grande società, i figli in comune, un bambino non poteva dire questo è mio padre, quella mia madre. Erano tutti papà ed erano tutte mamme. Quindi questa unione. Lui scrive così saranno di tutti anche i figli. Nei padri conosceranno i propri figli, ne i figli i propri padri. Perché i bambini venivano tolti al momento della nascita, i genitori. Quindi poi da grandi non potevano chiaramente sapere chi fosse il padre e chi fosse la madre. La donna, era uguale all'uomo. Quindi uguaglianza tra uomo e donna. E la donna doveva partecipare attivamente alla vita dello Stato. Doveva dare il suo contributo. Viene da dire, ma in una società del genere è possibile la felicità? Qui siamo di fronte a uno statalismo molto forte a una società dove quindi lo Stato controllava, partendo anche dalle cose piccole, la vita dei cittadini. Per le classi a potere non potevano avere la proprietà privata. La proprietà privata era vietata alle classi superiori, era concessa soltanto ai membri, ai lavoratori. Quindi uno Stato forte che controllava la vita dei cittadini, che la regolamentava. Si può essere felici in uno Stato del genere? Secondo Platone sì, la felicità è possibile. È possibile purché ognuno faccia il proprio dovere, faccia il proprio compito e quindi facendo il proprio dovere, il proprio compito, si crea la giustizia. E la giustizia è la felicità. Quindi in Platonice questa equazione giustizia è felicità. E la giustizia equivale al fare il proprio dovere, al fare il proprio compito, perché in uno Stato del genere anche il lavoro, ecco diciamo, meno nobile contribuisce al bene comune. Quindi quando si contribuisce, si dà un contributo per il bene comune, si crea una società giusta e una società felice. E il filosofo di per sé è un uomo felice. Perché il filosofo è felice? Perché ha già raggiunto un alto grado al livello al livello della conoscenza. Quindi il filosofo, per essere felice, non ha bisogno del denaro, non ha bisogno delle ricchezze, non ha bisogno di avere una grande villa. Il filosofo è già felice interiormente perché ha raggiunto un livello molto alto nell'ambito della conoscenza. Tra l'altro i filosofi, quindi i futuri governanti, non si diventava governanti di questo Stato dall'oggi al domani. Il filosofo doveva mostrare di avere delle inclinazioni spirituali anche non indifferenti e doveva seguire un cursus studiorum abbastanza severo, abbastanza tosto. Si cominciava all'incirca a 17 anni. Per 2-3 anni il corso di educazione fisica, per i greci avere un corpo sano, allenato, palestrato, ecco, era molto importante. Poi il corso superiore dai 20 ai 30 anni, lo studio quindi aritmetica, geometria, musica, astronomia. Poi l'educazione dialettica, 5 anni, dai 30 ai 35 anni, e infine l'apprentistato pratico che durava dai 35 grossomodo ai 50 anni. Fatto questo percorso di studi molto molto lungo si poteva giungere al governo dello Stato. Platone però è consapevole che uno Stato del genere non esiste, non esiste uno Stato, uno Stato del genere in nessun luogo, in nessun luogo della terra. Ecco, riassumendo, uno Stato quindi basato su una forma quasi esasperata di statalismo, cioè uno Stato che controllava molto e regolamentava parecchio la vita dei cittadini. Allora poi lui analizza le varie forme di governo, le degenerazioni. Quali sono queste degenerazioni per Platone? Prima degenerazione, la timocrazia, che è il governo fondato sull'onore, quindi l'uomo timocratico, è un uomo che ama comandare, che vuole essere onorato, però è diffidente nei confronti dei sapienti. Poi abbiamo il governo oligarchico, quindi quel governo fondato sulla ricchezza. L'oligarca è un uomo sicuramente laborioso, un grande lavoratore, però è abito, è troppo legato alle ricchezze. La democrazia per Platone è una degenerazione. Lui non amava molto la democrazia, perché un governo democratico aveva condannato a morte il suo maestro, Socrate. E per Platone la democrazia è quel governo dove tutti possono fare quello che vogliono. E questo non va bene, perché in un governo democratico dove ognuno può fare ciò che vuole, l'uomo poi si abbandona ai desideri smodati. E infine la tirannia, la peggiore forma di governo. Il tiranno è un uomo infelice, è un uomo vizioso, è un uomo quindi che vive in modo molto negativo la propria vita. Allora per Platone, quindi, possiamo notare una certa avversione nei confronti della democrazia, lui va verso una forma di aristocrazia. Per Platone devono governare gli stati i migliori, gli aristoi. Ecco, anche in questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare del governo dei migliori. Chi sono questi migliori per Platone? Sono i migliori, i migliori non sono migliori per nascita e per ricchezza, ma per virtù e per valore personale. Quindi il governo dello Stato deve essere affidato alla parte aurea, alla parte d'oro della società, alla parte quindi virtuosa, non sia per Platone virtuosi, per nascita o per ricchezza, ma per il valore personale di una persona, per quelle che sono poi le sue vere qualità, le sue vere virtù. E allora, quindi per Platone, questo Stato, come dire, è uno Stato molto gerarchizzato, uno Stato dove, quindi, viene controllato un po' la vita dei singoli cittadini. E lo Stato è malato, qui lui scrive, quando le classi non sanno stare al proprio posto. Quindi, per Platone è di fondamentale importanza, già detto prima, che ognuno debba svolgere il proprio compito, debba fare la propria parte, evitando di passare, di invadere altri campi. lui scrive, l'immischiarsi dunque negli interessi altrui e l'inserirsi delle tre classi l'una nell'altra sarebbe per lo Stato gravissimo danno. E se avrebbe ragione a dirlo, un vero e proprio delitto. Quindi quello che è stato detto prima, il lavoratore deve fare il lavoratore, il guerriero il guerriero, evitando di passare da una parte all'altra. E ribadendo una forma importante di statalismo. Anche per i matrimoni, lui scrive, occorre che si uniscano in nozze i migliori, dell'uno e dell'altro sesso, quanto più spesso è possibile, raramente invece i più scadenti. Quindi anche nei matrimoni devono unirsi i migliori. I più scadenti è meglio che non si sposino. Quindi lo Stato regolamentava la vita dei cittadini anche in questi settori, partendo dalle piccole cose. Qui viene portato un altro esempio. Uno schiavo che ruba un grappolo d'uva deve prendere tante frustrate, povero schiavo, in base agli acini che ha accolto, che ha rubato. Questo già nelle leggi. Quindi una regolamentazione della vita fino, fin quasi, all'esasperazione. Una forma di governo allora aristocratica, il governo dei migliori, possiamo dire anche una sofocrazia per Platone. Il governo quindi della sapienza, dei sapienti, o una noocrazia, governo dell'intelligenza. Ripetendo e ripetendolo di nuovo, al governo devono andare i migliori. Quindi gli uomini intelligenti, i sapienti, i virtuosi. Virtuosi non per nascita o per ricchezza, ma per i propri meriti personale. Quella che oggi si potrebbe dire meritocrazia. Altra domanda, però, questi filosofi governanti giunti al potere saranno poi davvero degli uomini giusti, metteranno la giustizia al centro di tutta, oppure magari si sporcheranno le mani, diventeranno avidi, si faranno un po', come dire, trascinare dalla cupidicia, da tante altre situazioni. Per il nostro filosofo, se da piccoli si è abituati all'idea del bene comune, all'idea della giustizia, una volta giunti al potere, verrà, cioè, giunti al potere, chi giungerà al potere continuerà a essere giusto, a essere una persona onesta. Per Platone allora è fondamentale la formazione, l'educazione, sin da piccoli. Noi già abituiamo i bambini all'idea della giustizia, all'idea del bene comune, loro, da grandi, quindi, quando governeranno lo stato, saranno degli uomini giusti, dei uomini virtuosi, perché chi viene abituato da piccoli all'idea della giustizia, manterrà questa idea, anche se sarà al potere, anche quando governerà lo stato. Quindi, fondamentale l'educazione. L'educazione che, però, Platone vedeva un po' in modo classista, cioè, l'educazione doveva riguardare soltanto le prime due classi, i governanti e i guerrieri. Erano esclusi i lavoratori. Lui scrive, è impossibile che la massa filosoficamente rifletta. Quindi questa formazione permanente, questa educazione doveva essere riservata alle prime due classi e non ai lavoratori. E allora lo stato platonico diventa una sorta di grande accademia con formazione permanente per, appunto, poi creare dei veri filosofi che governeranno lo stato con giustizia e mettendo al primo posto il bene comune. Va bene, alla prossima e ciao!